Il Movimento 5 Stelle vuole dare un reddito di dignità a chi il reddito non ha e vuole alzare le pensioni minime. Non ci sono i soldi, dicono i partiti. Dato che i soldi ci sono, ho avuto l'idea di iniziare una rubrica di denuncia dal titolo appunto I soldi ci sono, perché mentono su tutto. E dato che i soldi ci sono, ma o se li rubano o vengono sprecati in maniera indecorosa, iniziamo a denunciare queste schifezze, perché più denunciamo, più l'opinione pubblica si interessa, facciamo pressione e otteniamo i risultati. Esempio di oggi, la Camera dei Deputati spende all'anno 900 mila Euro per rimborsare gli ex parlamentari e i loro viaggi. 900 mila Euro all'anno per i viaggi degli ex parlamentari, nemmeno dei parlamentari. Spreco vergognoso, considerate che con 900 mila Euro daremo una mensilità in più a 1800 pensionati, minimi ogni anno. Vedete, un unico spreco della Camera, 1800 pensionati che potrebbero avere una mensilità in più. Se qualcuno vi dice che cosa fa il Movimento 5 Stelle, rispondeteli che banalmente sta difendendo i vostri soldi. Un abbraccio a tutti. Grazie. 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 Grazie.